Corriamo insieme verso l'alba di un futuro migliore. Lo slogan era chiaro e tutto era pronto a Bari per la Marathon Alba, la gara apodistica non competitiva di 8 chilometri organizzata dall'associazione Ital, ma poco prima del via tutto è saltato. L'idea era quella di ripercorrere simbolicamente l'arrivo delle migliaia di albanesi che a bordo della Vlora sbarcarono nel porto del capoluogo pugliese, ma la corsa poco più di un pomeriggio di allegro e sano divertimento è stato cancellato con una lettera. Quella della FIDAL, la federazione italiana di atletica leggera, che avrebbe di fatto vietato ai suoi tesserati di prendere parte alla competizione. Delusione per Elio Sanicandro, assessore allo sport del Comune di Bari e presidente del CONI Puglia, che con lut figuri, atleta con un passato da primatista d'Albania nei 100 e 200 metri e commissario tecnico della Nazionale di Atletica avrebbe dovuto dare lo start. Grande l'amarezza del presidente dell'associazione ITAL, Antonio De Cicco. Mi dispiace, questa cosa ha rovinato la festa, una bella festa. La città di Bari ieri, come sapete, ha ricevuto la medaglia della gratitudine da parte del presidente della Repubblica Topi. Questa cosa ci ha onorato molto noi cittadini baresi. Perché questa maratona non si fa più? L'abbiamo annullata. Perché stamattina alle ore 12 avevamo soltanto 20 adesioni. Mi dispiace per quelle 20 persone che hanno accettato di correre, ma non era una corsa, ripeto, era una passeggiata. Perché evidentemente siamo venuti a conoscenza che la FIDAL, e non ho paura a dirlo, ha fatto circolare una mail presso i loro associati, diffidandoli dal correre perché laddove si fossero fatti male non sarebbero stati coperti dalla loro assicurazione. Questo non era un problema per noi perché c'era l'Oxen che copriva questo. Noi questa maratona la faremo, non so quando, ma la faremo in barba a tutti quelli che ci hanno ostacolato.